Comandi per verificare la temperatura e il livello dell'acqua e la velocità di rotazione del cestello nelle lavatrici LG. Le lavatrici LG sono dotate di sensori, capaci di monitorare e controllare il lavaggio. Durante un programma di lavaggio è possibile visualizzare il valore di queste misurazioni. In questo video vedremo come visualizzare la temperatura e il livello dell'acqua e la velocità di rotazione del cestello. Questi controlli possono essere eseguiti sulla maggior parte delle lavatrici LG. Tieni presente che le seguenti combinazioni di pulsanti funzionano solo durante un programma e non quando la lavatrice è in stand-by o spenta. Per mostrare la temperatura dell'acqua durante un normale ciclo di lavaggio, tieni premuti contemporaneamente il pulsante in basso a destra e il pulsante in alto a destra. In questo momento la temperatura dell'acqua è 67 gradi. Quando rilasci i tasti viene visualizzato nuovamente il tempo rimanente del programma. Per visualizzare la velocità di rotazione del cestello espressi in giri per minuto, tieni premuto il secondo pulsante in basso a sinistra e il pulsante in alto a destra. Per visualizzare il livello di frequenza dell'acqua, tieni premuto il pulsante in basso a sinistra e il pulsante in mezzo a destra. Più basso è il valore, maggiore è la quantità di acqua misurata. Il display può visualizzare solo valori fino a 999. Quando la macchina gira a 1400 giri al minuto viene visualizzato 140. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.